Il nuovo prodotto che abbiamo inserito all'interno della collezione pare sia bello, mi parlano tutti molto bene, sono tutti molto contenti di questo nuovo prodotto, anche perché è fatto in modo particolare, fatto in Italia, tutto cucito in Italia e quindi riprendiamo quelle che sono le nostre origini. Sappiate che il nome tagliatore viene fuori dal soprannome di mio nonno che era un tagliatore di tomaia e di scarpe, quindi era un calzolaio, quindi ho ripreso un po' quella che era la nostra origine di famiglia. Sono delle scarpe classiche, però aggiornate, con dei perlami particolari, dei perlami nuovi, abbiamo usato un po' su queste scarpe, quindi abbiamo tenuto la scarpa classica con dei perlami completamente diversi dalla normalità. Lappotti più lunghi sicuramente, con questo gusto un po' militar chic, con questi trench, tessuti anche lì, tessuti nuovi, abbiamo aggiornato un po' tutta la gamma di tessuti. Valori nuovi, ottaneo, ruggine, non manca mai il cammello, c'è sempre del blu, marrone e via.